le avventure di questa effa le avventure dell'effa in mezzo bocchi quello stanchissimissimissimo si devono aprire nel senso che si devono aprire la natura più lo dici più è facile come come lara che c'entra scusa vi state complicando la vita sulla ghiaia è sparita la parte sbagliata comunque ti dicevo che no no mo cado mo cado mo cado ok non possiamo salire no 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 aia chi ha avuto la felice idea di passare da qui lui non possiamo non possiamo salirci a meno che non facciamo no 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 mamma mia salvato mamma mia che fortuna no 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 ooooh stai facendo il radio con loro vabbè quanto stanno qua nooo oddio bene e adesso? ah credevo che era per i messaggi dal cielo mio nonno mio nonno si proprio lui nonno occhio che se ti prendo dentro di noi ah eccola no no la famosa capanna del sesso elfico ah ah sentite un crunch? sto facendo merendina posso dire che chi doveva arrivare per primo non è proprio arrivato cos'è questo posto? cosa? cos'è questo posto? ma è stata? vai ci sono stato l'altra volta c'era un po' di confusione l'altra volta pensavo ci vivesse qualcuno poi è pieno di cose strane che ha parecchi strani ah infatti questo sembra il mare sembra questo schermetto credo sì 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 questo è uno schermo ma è appiccicosa questa cosa che schifo c'è un originario nudo qua è vero è un originario nudo dov'è Yuki? Yuki dov'è Yuki? non lo so Yuki? oddio vero ma Yuki e Yaku dovevano arrivare per primi facciano tanti fighetti no mi sa che forse no 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 Yuki era con Yuki hanno detto l'ultimo che arriva Yuki Yaku è andato a Pietro appurato ma vabbè no best posto pietra forata vabbè mi metto a dormire ciao a dormire insieme Yuki dove sei? no io preferisco le foglie sel 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 cosa è successo? no niente stavo dormendo profondamente no niente niente sono scivolato io comunque dovrei andare a Pietro forata che girati dovrei fabbricare una cosa qualcuno che devi fabbricare quel robo strano l'aeronave si ma sai che è comodissima porta un sacco di chili no veramente si ti giuro ma niente c'è proprio un sassolino che mi odia mi fa in giampare ma no ne teia tutto bene è sparito vediamo se va meglio si è trasformato in un gatto prima si si era per quello allora si 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 infatti è più divertente il cerco io penso che si abbia affascinante un puma era lei io stavo non so perché l'avevo capito posso solo che il coyote mi ha morso il piede ecco l'era Jacu Jacu mi ha fatto bene vabbè ma tu mi odini io lo so no no ancora un pasello ma addio ma ti ho detto che non si sistemava quel problema così non chiedo è successo a me ieri sera vabbè non chiedo chiedo rutto no no ok ma vediamo voglia di girarmi un attimino si hai fatto un po' video po' guarda che se prendi qualcuno poi le prendi eh hai trovato Nini se prendo qualcuno poi le prende perché dove le prende che ti ho fatto di male ma che ti ho fatto di male che ti ho fatto di male hai tentato di abbracciarmi no non ho tentato ti ho abbracciato è diverso no siamo andata si anche sbagliate volte ti ho abbracciato eh tornate qui o andate a Pietro Forato io sono già a Pietro Forato e sto parlando con Nini e Red io ho riuscito a Nino che voleva a picciarmi mi ha detto se mi abbraccia ancora ti picchio l'ho abbracciato comunque quando è stato rapito si qualcuno di voi ha bisogno di beco da mangiare no 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 grazie ok io lo mangerebbero io Netejam sai la strada? dove è andato? sal adesso torna forse le abbiamo badate troppe non sono mai abbastanza dove sono andato che è andato boh stanno scagazzando in giro non sono mai abbastanza non sono mai abbastanza non sono mai abbastanza stai impazzito il bot ragazzi non ci fate caso non so perché non so perché eccolo eccolo ok ci siamo mettere ok ci siamo tutti qui a meditare presumo perfetto piccolo dettaglio c'è la probabilità che è andato da un po' fastidio no non dare fastidio ma se andassimo tutti in che senso non ho capito poi lo capirai ti portiamo sulla casa no 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 non dare fastidio non dare fastidio picchiare o altro tranquillo può dare fastidio o almeno non può dare fastidio ok Yuki c'è il maestro lì presente no non c'è ancora che aveva aggiunto oh oh mi posso nascondere dove è bello qui io invece mi voglio mettere così 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 ok allora io non so quante persone si hanno ascolto in questo momento ma abbiamo diciamo una specie di riunione sono andata online nel momento sbagliato perché mi ero scordata di questa riunione quindi facciamo che stacchiamo un attimo e ci rivediamo fra pochissimo che ne dite a dopo e ne dite a dopo che stacchiamo Grazie a tutti.